Salve a tutti ragazzi, sono iPhone Amatore e questa qui è la soluzione del livello 4 del Season Tower di Centoflores, i nuovi livelli di Halloween Per questo livello sono dovuto andare a vedere personalmente le soluzioni perché non lo sapevo neanche io e ora vi dico io la soluzione Allora, in teoria dovremmo prendere in considerazione l'immagine questa qui sopra, solo che non so il perché Però so la soluzione, quindi almeno la soluzione per andare avanti io ve la do Qui, questo cerchio qui in alto a sinistra non lo tocchiamo, questo qui in alto a centro lo tocchiamo una volta Questo qui due volte in alto a destra, 1, 2, questo qui 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Ecco qui che abbiamo aperto la cosa, la soluzione io vi chiedo scusa perché questa volta non la so Comunque se non è questo il livello che cercavate potete andare nei miei video precedenti perché ho fatto praticamente tutti i livelli Detto questo qua vi saluto, iscrivetevi se volete a altri livelli e aggiornamenti e mettete mi piace Ciao a tutti ragazzi